Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che attenzione vedrà un nuovo centro di bassa pressione avvicinarsi all'Italia portando un nuovo peggioramento del tempo soprattutto al centro sud, perturbazione che arriva dalla Spagna. Andiamo a vedere la nuvolosità prevista sul nostro paese, al centro sud nubi estese e compatte, il nord invece viene solo lambito da questo sistema nuvoloso, non mancheranno infatti delle parziali scheritte specie sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura padana. Come precipitazioni tornano piogge abbastanza diffuse nelle regioni centro meridionali ma anche qualche fiocco di neve, tanto a inizio giornata qualche nevicata anche a quota bassa potrà interessare anche parte del nord, quindi in definitiva ci attende un martedì di maltempo soprattutto al centro sud, qua con nuvole estese, un po' di pioggia, magari piogge non particolarmente intense ma a tratti piuttosto insistenti. Nord solo sfiorato però nelle prime ore del giorno nevicate anche a quote molto basse, attenzione, su basso Piemonte, entro Terra Ligure e soprattutto Emilia e bassa Lombardia, quindi ci si sveglia magari con i prati un po' bianchi, per il resto al nord mancheranno anche come vi dicevo delle parziali aperture. Per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località a vista la situazione consultate l'app di Trebi Meteo.